Fischio, direttore di gara, inizia il primo dei due incontri qui sul campo A del circolo Andrea Doria lunedì di Citroen Cup, abbattuto il Perugia che sconterà in questo incontro il Gremio Perugia quindi in maglia rossa che attaccherà da destra verso sinistra In questo primo tempo Gremio invece in maglia Nero Celeste che attaccherà da sinistra verso destra Marocchini si fa vedere Barison, preferito invece a sinistra Peluso Peluso che porta la palla, vede in avanti trincia Poi c'è stata una deviazione, autogol Goal dell'1-0 quindi per il Gremio al quarto minuto del primo tempo C'è che andare trincia, palla di raperti, iozzo, il tiro! Fantastico il gol del numero 10 12 minuti sul cronometro, 2-0 per il Gremio La prende adesso il numero 5 del Perugia Del Nero, lotta ancora lui Buono il passaggio per Trani Ancora Trani, si stema la palla per il Vernero E gol al quindicesimo minuto del primo tempo 2-1 Segna Del Nero Accorcia le distanze Al numero 1 Del Perugia Ho servito l'altro Trani Il numero 8 Ludovico Opportunità per il Perugia Che pareggia con la doppietta Di Del Nero Gol al diciassettesimo minuto del primo tempo 2-2 Claudio Del Nero Calcio di rigore sta per abbattere Trincia Contro Nibaldi Forte E centrale Il tiro di Trincia Gol del 3-2 Ventisimo minuto Torna in vantaggio il Gremio Ancora in possesso però il numero 10 La passa a Marocchini Il tentativo Mazzarotto copre E poi C'è il dubbio Fischio Finisce qui Il primo tempo Perugia 2 Gremio 3 Fischio il direttore di gara Inizia Il secondo tempo Con questo tentadio di Tiozzo Parato Da Anibaldi Gremio in vantaggio Per 3-2 Che attaccherà da destra Verso sinistra Invece Perugia Cercherà Di riprendere la partita in mano Attaccando da sinistra Verso destra Recupera Tiozzo Palla per Trincia Si sbloccherà no La parata Di Anibaldi Molano la manda in avanti Per Trincia Di tacco Palla che va sopra la traversa Filippi Cipollone Ancora Filippi Tiozzo Per Piluso C'è Trincia Il tiro Ce l'ha fatta Matteo Trincia Si è sbloccato in questa partita 4-2 Per il Gremio Al 38esimo minuto Di gara Barison Piluso Ancora Piluso Può andare Piluso C'è Trincia Doppietta In meno di un minuto Di Matteo Trincia 5-2 Si è svegliato il numero 9 Calcio d'angolo battuto Verso il primo palo Campi Devi mandare in avanti Ci prova Non riesce a tenere il possesso Il Perugia Recupera Il Gremio Poi c'è la botta Di Marocchini Gol Del 6-2 Per il Gremio A 5 minuti Dalla fine dell'incontro Segna anche Daniele Marocchini Calcio d'angolo Forse una delle ultime occasioni Per il Perugia C'è il Tribuice Fischio Finisce qui l'incontro Cinquantesimo Spaccato Perugia 2 Gremio 6 Perugia 3 Perugia 3